buongiorno a tutti buongiorno e bentornati a questa nuova video premiera by hotting io sono alessandro valentino e sarò il moderatore di questa nuova video premiere saremo fra pochi istanti a bordo di un bellissimo intermare 43 del 2007 insieme allo strinviato marco toffanello che ci sta già aspettando in banchina dunque intanto vedo marco e lo facciamo entrare immediatamente benissimo marco lo aspettiamo intanto vi racconto brevemente che cos'è la video premiera la video premiera è proprio il video completo dell'imbarcazione che andiamo a presentare sul mercato e che è appena entrata nella flotta by hotting come tutte le imbarcazioni anche questo intermare 43 ha un contratto di vendita in esclusiva ecco qui il nostro marco marco vedo che oggi c'è il sole lo hanno le condizioni assolutamente prenotato per la video premiere e allora ti direi marco partiamo pure come stai tu tutto bene tutto a posto tutto a posto clima della liguria ottimo anche se il weekend prevederà un po di maretta però si sta veramente bene bene prendiamo le ciance e andiamo a vedere oggi marco io direi ti chiedo benissimo di girare la telecamera e lascio direttamente a questo punto la parola a te ti metto grande per tutti così ti vedono meglio chiudo il mio video così possiamo vedere al meglio l'imbarcazione e lascio anche te la parola marco siamo andiamo a bordo di un intermare 43 fly del 2007 e lascio a te la parola eccoci qua allora la barca l'hai già descritta abundantemente barca con due motori yanmar da 370 cavalli quindi barca comunque rapporto peso potenza ottimo linee della barca nonostante l'età erano già avanti quindi molto molto attuali bellissimi passavanti colore dello scafo e panda particolare abbiamo delle bellissime finestrature è una bellissima linea questo intermare linea veramente come hai detto tu molto attuale molto molto filante una bella veramente una bella sì 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 non non è assolutamente un'idea del della dell'età anche perché c'è una bellissima continuità qui sulla sul cristallo fino al fly si integra perfettamente con queste bellissime finestrature quindi come vedrete dopo barca veramente molto morbide molto molto belle e anche questo attacco del parabrezza veramente molto elegante le linee sono molto raccordate molto elegante come barca e intermare era avanti in quegli anni perché è comunque rimane una barca anche a vederla molto attuale qui la carrellata laterale dopo lo facciamo vedere da fuori e così se anche un controcampo migliore abbiamo un pozzetto enorme veramente veramente grande data la misura della barca è molto abbondante come misura sì il tec è in stato perfetto e abbiamo anche una spiaggetta di tutto rispetto veramente grande anche questa una bellissima passerella recentemente per cui ci hanno messo anche le mani per cui devo dire che veramente la barca presenta bene e si vede che che il colpo d'occhio veramente molto piacevole anche la sera idraulica della vera piattaforma sì sì è molto grande sta tranquillamente un tender gonfio senza il minimo problema passerella della besenzione idraulica con un allungamento notevole quindi permette anche andando in un porto a differenza di loano che si può star così vicini tranquillamente con una banchina di riva formeggiare senza pensieri ogni barca molto molto bella qua poppa poi troviamo vabbè il vano zattera qui dietro quindi comoda in qualsiasi evenienza attacco della corrente carico dei serbatoi dell'acqua e presa diretta dell'acqua in banchina così non possiamo anche usufruire dell'acqua direttamente a pressione dell'acquedotto qui troviamo un bellissimo gradino che è comodo nel caso utilizziamo dovessimo utilizzare la passerella non avere lo sbalzo alto e a questo punto incomincierei andare a bordo per farvela vedere noi ti seguiamo marco passaggio qui all'interno pozzetto come vi dicevo veramente grande questo è l'apertura che dà l'accesso al vano motori e gavone dove troviamo anche batterie carica batterie e generatore di corrente questa barca è dotata di generatore da 4 kilowatt un comodissimo armadietto corretto della base da 4 kilowatt un comodissimo armadietto con spazio di stivaggio qui sopra uno sportello tecnico dove troviamo gli staccabatterie e appena sopra i comandi per la passerella per la passerella perfetto poi troviamo una comodissima comodo e a portata di mano assolutamente una comodissima seduta qui in pozzetto bello e utile anche l'ombreggiante privacy insomma che protegge un po' della privacy un po' del sole quindi a seconda di chi sia l'interessato qui troviamo questi passavanti per andare a prua con tienti bene comodissimi battagliola all'altezza giusta belli larghi e comodi a differenza di altre barche nonostante dentro vedete non manca lo spazio quindi veramente agevole qui una prua grandissima dotata di cuscineria al momento non messe fuori perché sono state portate per l'invernaggio ovviamente per non lasciare rovinare l'oblò della gabina di prua grandissimo e qui troviamo poi il gavone dell'ancora con il verricello nascosto tutto bello linee molto molto pulite adesso vi faccio un bellissimo controcampo su questa prua tutto veramente molto molto pulito come come linee eccolo qua che meraviglia molto bello è veramente veramente bella molto filante la linea senz'altro vedrete che a vederla al vero vi piacerà tantissimo perché è proprio un continuo raccordo di linee di curve veramente morbida e molto molto slanciata come barca poi c'è un tendarino abbiamo già intravisto un tendarino che va a coprire la zona fly quindi ecco è dotata di tutto la barca è veramente molto ben accessoriata come abbiamo già detto tu generatore da 4 kilowatt c'è l'elica di prua aria condizionata antenna tv stratellitare la piattaforma di poppa l'abbiamo vista c'è la pastella idraulica abbiamo ecco l'altra cosa molto interessante a parte il bimini sul free bridge dobbiamo dire ma ne andremo a parlare specificatamente della motorizzazione con motori veramente con poche poche pochissime ore ad oggi ci sono 200 291 ore uno e 293 ore l'altro perfetto precisissimo veramente ad oggi devo dire che veramente è niente sicuramente un utilizzo forse più come come villetta al mare per fare qualche uscita piuttosto che un'imbarcazione che deve di questi anni linea d'asse quindi anche questo è un altro bel plus secondo me di una di un fly bridge di 43 piedi e sicuramente con utilizzazione quindi la 370 cavalli quindi ben motorizzata con una motorizzazione di una d'asse con così poche ore motore lascio andare avanti te e nel frattempo io se avete visto sono salito sul fly fatto una bella panoramica qui abbiamo un fly di tutto rispetto con una bellissima zona prendi sole posteriore qui il bimini che dicevamo prima che apre va a coprire completamente la zona conviviale perfetto adesso mi giro così ve lo faccio vedere qui dalla parte posteriore un bellissimo divanetto a c veramente comodo e ampio di compagnia di stare esatto stare seduti comodi in più qualcuno può stare dietro a prendere il sole una postazione di comando qui sulla sinistra comandi motori ovviamente elettronici abbiamo tutta la strumentazione riportata qui sopra quindi abbiamo una gestione completa della barca dalle manette elettroniche poi troviamo il comando per i flap comando dell'elica di prua pidometro pilota automatico tutta la strumentazione analogica un'altra bussola un'altra giù e più abbiamo un charplotter un c 70 che asportabile non fisso tranquillamente funzionante e tutto quanto cornetta vhf con altoparlante esterno come vedete anche la condizione del plexigrass che tante volte su quest'età di barca incominciano a fare le lentigini come diciamo noi esatte invece questo plexi è perfetto quindi questo è tanto di cappello perché qualità del materiale sono barche fatte bene sono barche valide sono barche veramente molto ben costruite ben motorizzate ben anche rifinite proprio lo vedremo poi agli interni la barca la barca è bella davvero e lo vediamo qua vediamo qua la qualità dei materiali anche le cuscinerie esterne come vedete c'è una copertura al proprietario la tiene sempre coperta d'inverno ovviamente c'è la copertura qui che qua da copri console copre tutta la parte anche delle cusinerie fisse infatti sono in perfetto stato come vedete le cusinerie sono veramente in perfetto stato in questo momento come dicevo idem per le cusinerie di prua non ci sono le cusinerie dietro perché sono riposte e non verrebbero coperte poi per scendere dal fly abbiamo questa scala come vedete sui gradini rivestiti in tech ma come vedete dai gradini sono belli ampi e anche qui contenti bene senza problemi e veramente nessuna difficoltà a scendere che anche questo non è così scontato su un fly di 40 piedi tante volte troviamo delle salite veramente difficili scomode senza tenti bene con magari più invece che i gradini vediamo se si nota proprio una facilità di movimento assolutamente poi troviamo una bellissima vetrata porta scorrevole una vetrata finitura in acciaio inox acciai ancora perfetti non belli perfetti veramente gli acciai di una volta come si dice ormai è vero è vero e qua porta anche gli acciai di una barca curata ecco allora se siete pronti io passerei a vedere l'interno facciamo pure lo show via eccoci qua guardate la luminosità di questa barca con l'ho preparata visto il sole ho tolto tutti gli oscuranti che è dotata anche di ombreggianti per le finestrature e ci sono l'ho tolti io assolutamente però meritava la giornata per farvene godere a pieno di quanto sia luminosa e spaziosa questa barca e noi non possiamo che ringraziarti Marco perché veramente l'approccio agli interni è veramente molto molto piacevole qui sulla destra sulla dritta troviamo il tavolino che è spostabile ampliabile con sul bel divanetto sul bel divanetto e sulla sinistra un altro divano da tre posti non il solito classico divanetto da due ma ben da tre come vedete le cucinerie sono perfette sono veramente in ottimo stato così come tutti i legni la barca non presenta infiltrazioni da nessuna delle vetrate nessuna delle parti del fly né niente è veramente messa messa bene sì 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 è una è veramente una bella di cosa parliamo qua dentro qui siamo penso su due metri e cinque centimetri sopra la mia testa arrivare a quella che è il rivestimento oltretutto è rivestito non è nemmeno in gel coat quindi anche questo molto molto bello e per quanto riguarda l'altezza qui dove c'è lo scanso del dei legni per incassare le luci siamo abbondantemente comunque sui due metri due metri un centimetro perfetto senza nessun problema molto molto e ti farò la stessa domanda poi quando scendiamo sotto certo anzi dopo giù sarà più facile anche girare adesso vi faccio un controcampo sulla dinetta come vedete nonostante abbia un baglio non esagerato e dei passavanti molto comodi l'interno è veramente largo e normalmente questa cosa va a perdersi un po perché per sacrificare per aumentare i passavanti l'interno è molto stretto invece questa barca rimane con uno spazio molto molto grande qui troviamo una delle due televisioni quella che gestisce la dinetta lì sotto abbiamo il comando per il generatore poi centralina per la tv satellitare e in questo caso c'è su anche un decoder per la tv donire marco la sensazione è veramente molto molto piacevole sia l'impatto interno i legni nelle cuscine dire che sono belle devo dire è molto piacevole molto molto caldo come impasto assolutamente guarda vi faccio vedere un particolare qui troviamo uno dei due finestrini scornevoli che danno a reazione poi si l'abbiamo detto all'aria condizionata caldo freddo comunque la barca questa parte qua che normalmente nelle barche normali diciamo è in gel cot comunque verniciata invece abbiamo rivestimento in in pelle trapuntata e come vedete come vi dicevo prima nessun problema di infiltrazione perché queste pelli sarebbero subito segnate rovinate sono un bianco panna non sono bianco lucido ma la barca è veramente messa bene poi per fare ombra abbiamo le persianine a pacchetto in legno molto carine serine bene sì 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 è molto molto carina qui sono adesso io mi trovo seduto alla posizione di comando abbiamo display analogici di tutti e due motori l'angolo di barra la bussola il pilota automatico proprio in posizione centrale di fronte a ruota del timone qui abbiamo un primo c'è il secondo char plotter perché il primo ve lo ho già fatto vedere di sopra comando dell'elica di prua e ridata questa barca un'altra chicca che per il 2007 era avanti e gestita in domotica qui adesso potete fatica un po vederlo però è gestita in domotica da questo display touch in questo caso siamo nella sezione dove vado a controllare tutte le luci della barca e quindi ho la piantina della barca con tutte le luci ma poi tramite il touch posso girare nei vari menu andare a vedere quelle che sono le varie funzioni navigazione tutte le cose quindi molto avanti come vedete è molto è molto veloce la risposta quindi era già avanti è vero questa è una super è una super chicca di questi di questi intermai di questi anni perché veramente in quegli anni non si immaginava lontanamente di di fare un lavoro del genere soprattutto su questo taglio qua ecco da qui potete vedere i livelli del carburante livelli dell'acqua temperatura delle stanze veramente c'è una gestione completa della barca veramente bello e funziona perfettamente come avete potuto vedere perché tanti magari sono preoccupati ma non funzionano funziona perfettamente in questo momento ripeto lo vedete un po pallido perché con la luce che c'è esatto comunque vedete anche la il pellame rivestimento della parte sotto parabrezza è in perfetto stato che in questo caso con la luce se ci fosse delle scollature o le cose riflessi lo farebbero vedere immediatamente invece la barca presenta proprio bene anche qui è tutto rivestito no no è veramente devo dire guardate che è una barca veramente avanti perché è attuale forse anche meglio di alcune attuali è vero è vero i legni devo dire sono anche molto molto belli poi ovviamente venendo a bordo qualche cosina per l'età lo vedrete senz'altro perché comunque ripeto ripetiamo è una barca però vi garantisco che è tenuta bene e non ha cose assolutamente semplici incominciamo a scendere allora scendendo facciamo questi due gradini troviamo la cucina sulla murata di sinistra cucina che macchinetta del caffè a parte che del proprietario abbiamo un microonde abbiamo un piano a due fuochi in vetro ceramica poi troviamo un frigorifero qui dell'agua eco forse queste le uniche cose che sulle barche di una volta non c'erano ancora i frigo domestici come c'è la mania di adesso ma comunque è un frigo da 70 litri di tutto rispetto e quindi qua poi troviamo il suo bellissimo lavandini doppio pozzetto in acciaio rinox con lavandino ripiegabile e per cucinare tutto abbiamo anche il suo blog tutti gli oblò sono già dotati di zanzariera non so se si intravede ma c'è la zanzariera già montata si vede perfetto anche qui come vedete tutto molto pulito tutto molto ci sono colature non ci sono infiltrazioni molto molto in ordine no no infiltrazioni in questa barca proprio niente anche la i gradini come potete vedere sono perfetti si 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 anche qui poi vabbè pazzo di stivaggio anche qui c'è un spazio al massimo ora mi giro e andiamo verso prua e partiamo con la come ovviamente non l'abbiamo ancora detto però il layout è un layout con due cabine e due bagni ecco mi ricordi mi sembri ricordo bene due wc elettrici assolutamente qui vedete la gabbina adesso qui ho lasciato perché altrimenti le riprese non venivano avevo fatto una prova ho lasciato le persianine socchiuse in modo che possiate vedere che comunque anche solo con due lampadine a led e l'oblò di superiore aperto guardate la luminosità il calore dei legni veramente molto bello le finiture letto ad isola con la comodità di poterci salire su lateralmente fino a praticamente a centro letto e anche qui sotto il letto abbiamo ben tre vedete la luce è decisamente tanta eccoli qua i tre cassettoni per riporre altri panni oltre gli armadi che ne ha due sul lato di sinistra sempre della gabina di pru abbiamo l'accesso a quello che è il bagno armatoriale qui troviamo un bellissimo lavandino la doccia col plexiglass rotante quindi per creare il vano doccia separato un bellissimo carabottino in tec e poi altra cosa qui è molto comodo abbiamo la possibilità di mettere giù quest'asse che va a coprire quello che è il wc e un bidet per poterci sedere quando uno si fa la doccia e utilizzare semplicemente sollevandolo voilà abbiamo il wc elettrico e il bidet bidet fantastico particolare perché è integrato nello stampo molto 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 bello oltre al fatto che veramente ricordiamolo siamo su un 43 piedi esatto il bidet che noi italiani piace moltissimo è veramente inusuale trovare su una barca del genere esatto poi in altro che da anche più luce abbiamo questo specchio questo che è uno specchio enorme a tutta lunghezza del bagno che aumenta la quantità di luce all'interno anche qui a reazione comunque garantita dal suo oblò perciò un bagno di tutto rispetto uscendo dalla gamina di prua sul lato di dritta troviamo il bagno per la gabina degli ospiti anche questo un bagnetto non piccolo perché sembra piccolo bagno del daily sì lavandino qui il bidet ovviamente non c'è però anche qui abbiamo comunque specchi mi vedete anche a me luminosità e possibilità comunque di fare la doccia perché abbiamo comunque il carabottino chiudendo si può fare la doccia qui dentro senza problemi fantastico andando verso poppa sempre sul lato di dritta troviamo la gabina ospiti o gabina bimbi chiamiamola come vogliamo qui comodissima due letti bella e luminosa anche questa due letti comodi belli lunghi perché siamo superiori al metro 90 di lunghezza del letto è una larghezza di tutto rispetto anche qui sempre il gioco degli specchi per le luci calcolate appunto che non ho aperto gli oscuranti però anche qui bellissima la parte plissettata che viene giù e armadio assolutamente ti chiedo anche qua la domanda che ti ho fatto prima le altezze nella cabina armatoriale soprattutto ti chiederei allora guarda ovviamente non abbiamo problematiche di altezza ecco qua guardate io sono 1,79 questa qui è il punto più basso perché è la porta fantastico ma già qua come vedete la mia spanna è 20 centimetri quindi andiamo tranquillamente a due metri quasi due metri dieci non c'è nessun problema di altezza in questa barca guardate qua sopra le porte bisogna essere superiori ai due metri per picchiare camminando senza scarpe perché può essere una due centimetri di tappo però così poi è la stessa la gabina di prua guardate andando indietro anche qui dentro all'interno della gabina di prua addirittura è superiore alla spanna è veramente altissimo bagni uguale l'altezza è tutta così quindi anche per gente del nord nordica nessun problema esatto la domanda è proprio rivolta a questo a questo pubblico così sono tutti più alti di noi esatto comunque 43 piedi due gabine due bagni belli comodi grandi direi che è una cucina di tutto rispetto con una dinette passa avanti larghi prendi sole possibilità assolutamente veloce bello scafo intermare comunque hanno belli scafi adesso vi faccio vedere anche la parte alta guardate questa linea questa linea mezza tonda perché qui un po tutto sul tondo quindi molto bello tutto stondato sulla bar questa parte rivestita in soft touch abbiamo i legni mentre la parte qui superiore furbissima oltretutto questo invece è già il cocktail rinunciato e quindi anche se dovessi cucinare va su qualcosa più facile da pulire manutenzionare evito problemi di condensa sulla sul pellame o cosa come vedete eccoci qua ci riportiamo altezza duomo fantastica ti direi se vuoi accomodarti un momento ci facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo di quello che abbiamo visto io a questo punto abbiamo poi comando dell'aria condizionata caldo e freddo esatto e poi se volete guarda vi faccio vedere una cosa in più perché siamo comunque sono adesso non andremo giù in sala macchina perché ti diventa complicato entrare con camera ovviamente marco per disposizione per parlare della barca interalmente questa qui non volesse una visita completa vuole essere un primo approccio ecco una prima approccio però ve lo faccio vedere perché merita qui come vedete il portellone servo assistito da due pistoni io l'ho sollevato con una mano da qui abbiamo l'accesso alla sala macchine qua sotto troviamo così avete anche un colpo d'occhio perché poi magari qualcuno chiede ma dov'è la roba qui sotto troviamo le batterie carica batterie è stato sostituito da poco e lì dietro trovate tutti i dati servatoio del gasolio dell'acqua è veramente accessibile e comodo adesso mi giro dall'altra parte e vi faccio vedere anche pianino è che la osmo gira ci siamo ci siamo ci siamo ecco qua e qui abbiamo il generatore e guardate anche qui dietro la scaletta d'accesso lo spazio di stivaggio veramente comodo e grande quindi direi che non manca neanche la possibilità di portarsi dietro varie cose fantastico marco ti ringrazio anche per questo dettaglio e la sala macchine vi garantisco è perfetta è veramente un bel vedere bene bene non ho dubbi avendo visto la cura che c'è che l'armatore ha dedicato questa a questa imbarcazione va bene marco io ti direi accomodati pure giro pure a telecamera su di te io mi rifaccio anche vedere ci rimettiamo in informazione insieme che dire marco io intanto ti ringrazio per la tua per questa bella presentazione che ci hai fatto ricordiamo appunto siamo stati a bordo di intermare 43 molto bene allestito con dei motori due motori yammer da 370 cavalli vedo che fa caldo lì da te te con circa 291 e 293 ore l'uno e l'altro quindi veramente con poco un utilizzo veramente limitato imbarcazione del 2007 abbiamo visto molto ben tenuta molto comoda molto sicura una barca che per chi sta cercando due cabine due bagni è veramente una un'ottima soluzione barca molto recente con tutta la domotica con con l'attrezzatura diciamo tutta la il sistema di controllo in domotica generatoria la condizionata passare idraulica tech rifatto nel 2022 nel nel pozzetto sulla sulla piattaforma insomma è ripristinato quindi erica di prua chi più ne ha più ne ha veramente abbiamo visto tante tante cose e mi viene difficile anche raccontarle ri 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 riassumerle in in un minuto barca molto in ordine dobbiamo dire marco ce l'ha fatta vedere i legni sono belli gli accesi sono belli le tappezzerie sono molto belle bisogna andare a vedere la bordo e partire immediatamente assi assolutamente poi altra cosa è due gabine due bagni ma se trovate anche sulla scheda sei posti letto perché i due divanetti della dinette consentono tranquillamente di far dormire due persone adulte uno sul lato di sinistra e uno sul lato di dritta senza dover abbattere tavoli cose ma veramente sono talmente tanto spaziosi e in lunghezza nessun problema neanche esatto avendo la la tripla seduta sulla sul lato di sinistra devo dire che effettivamente abbiamo fatto bene a sottolinearlo perché sono quei due posti aggiuntivi che in crociera poi possono servire quando abbiamo l'ospite nel fine settimana piuttosto che i bimbi del della della coppia di amici e va bene marco io ti che dire ti ringrazio e invito tutti veramente venire a vedere questa barca perché è molto bella marco ce l'ha fatta vedere in tutti i dettagli e a questo punto vi aspettiamo a bordo vi aspettiamo veramente a bordo marco vi accoglierà insieme anche devandro sui nostri referenti di loano due grandissimi professionisti marco ti ti ringrazio davvero anche per questa per questa nuova premiere e che dire marco li aspettiamo tutti a bordo assolutamente venite a trovarci a loano e venite a vederla perché oggi c'è domani non si sa lo vedremo marco ti ringrazio e ti ti saluto ci vediamo alla prossima senz'altro alla prossima un saluto a tutti alla prossima e ci vedremo a bordo con chi verrà a vedere questa bellissimo intermare 43 ciao ciao ti saluto così vado a chiudere i saluti finali benissimo io ringrazio davvero tutti per questa partecipazione potete scriverci a info a baiottin.com oppure trovare sul nostro sito a baiottin.com la scheda e questo video di questa bellissimo intermare 43 vi aspettiamo assolutamente a bordo una barca in ordine una barca pronta per l'estate e pronta per la stagione per cui chi fosse seriamente interessato ecco bisogna è il momento giusto è il momento giusto e allora vi aspettiamo tutti a bordo io sono alessandro valentino vi ringrazio ancora per questa video presentazione ci vediamo alla prossima